La nostra candidata a presidente, la camponista della lista di Napparì, i nostri due candidati più giovani di tutte le liste, Donato Ruzzante, 18 anni, il giro del lavoro che non lo è in San Lorenzo, e Donato Ruzzante pensi che mi ha aiutato in questa campagna e codice fin dall'inizio. Ma se noi abbiamo fatto la rete o digitale è perché qualcuno ha portato i soldi per la transizione ecologica e digitale in certe paese. E' stato Donato il presidente del Consiglio, Conce, che ha realizzato il grande compito di lavorare in Europa. E io che nella vita ho fatto parecchie esperienze istituzionali, l'ho fatto prima l'avvocato, come te, ma non ai livelli di professore universitario. Poi, capito a giovane a 30 anni, che è buttato, adesso invece ti stai facendo da neofita, bravissimo, ma che talmente ligio che io, lui ha detto ma tu non dubitavi come lì? Io, vedendo l'olino in aula, tutto preciso, cioè tutto questo è talmente preciso che alla fine non riesce a cambiarsi. Invece è stato bravissimo perché è riuscito a fare veramente i salti portali per essere presente. Io ci tengo molto perché le transizioni ecologiche e digitali per cui ha portato i soldi non devono finire nelle mani di chi invece quei soldi se li vuole usare per altro. Noi dobbiamo fare in modo che i soldi servano ad un paese più moderno, più ecologico e più educativo. Per di più io ho molto apprezzato l'incontro di Giuseppe con il gruppo Verte Europeo perché in realtà in questi ultimi dieci anni i parlamentari europei dei Cinque Stelle hanno votato per il 90% insieme ai Verte Europei. Io che sono stato il fondatore a Roma nel 2004, è nato il Partito Verde Europeo ospitato da noi, cioè io nel Presidente dei Verdi, Loredana è la nostra capogrupa, l'abbiamo fatto firmare, l'atto costituito del Partito Verde Europeo è stato firmato in Campidoglio nella sala dove fu fatto il trattato di io, a sala delle Verde Europee. Poi siamo andati all'auditorium della Musica, al parco della Musica dove con tutti i leader europei abbiamo fatto il primo congresso fondativo, quindi è nato qui il Partito Verde Europeo. Era già allora un partito abbastanza vecchio come struttura, tant'è vero che io sono un riformatore, proposi la riforma dello Statuto dei Verte Europei che è solo un partito antico in realtà, solo che rispetto ad alcuni temi resta il partito più di riferimento, ma andrebbe riformato e migliorato e la presenza di un'innovazione come Cinque Stelle è l'infa buona per riorganizzare. Grazie. 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 tele. Io voglio di nuovo il governo che andrà, porto di nuovo, che è fatto da noi. Ma se, poi, se la vista della nostra questione di 5 stelle, se la vista della mia, con dei premi che mettiamo insieme di 5 stelle e tutti gli altri che attivano, faremo una grande sfida. E quindi, quelli anche poveretti che ancora criticano lui su mille cose, ma, come dire, tutti possono criticare. Però i dati sono che chi ha portato i soldi della transizione ecologica e digitale si chiama Giuseppe Conte. Ed ecco perché la rete ecodigita nasce per una transizione ecologica e digitale e non possiamo essere contenti di avere, alla quarta iniziativa della rete ecodigita, ancora quello che è il nostro, come dire, ispiratore, perché è quello che in maniera mente ha portato i soldi. Quindi penso che gli italiani debbano riconoscere questo. E se è passato dal 10 al 20% nei sondaggi da agosto a oggi, io traspetto il sorpasso tra l'altro. Io parto da un presposto. Se le sfide che abbiamo davanti sono così impegnative, se le sfide sono così fondamentali per la sopravvivenza stessa del nostro pianeta, per un'essenziale qualità di vita, non sono sfide che possiamo giocare in solitaria. questa è la ragione per cui dico, e nessuno può pensare di avere un monopolio nel combattere queste sfide, nell'affrontare queste sfide. Anzi, la vittoria non può che passare al coinvolgimento del più ampio numero di persone. E non è un fatto solo, non è soltanto una prospettiva da lasciare in eredità i giovani. È una prospettiva che dobbiamo vivere subito insieme a giovani alle nuove generazioni. Ecco perché da questo punto di vista le polemiche non ci interessano. Tu hai voluto ricordare una sfida adesso anche in prospettiva, è il dialogo che abbiamo con i verdi europei. Questa per noi è un'ulteriore sfida, è un ulteriore motivo di confronto, di dialogo, per cercare di valutare come tutti insieme possiamo essere ancora più forti, ancora più pervasivi, capillari. Se non riusciamo a conquistare le persone, in questa prospettiva, in più ampio numero di persone, come facciamo noi a vincere la sfida ambientale, ecologista, dell'innovazione digitale coniugata appunto a una visione integralmente ecologista come chiamo io, una visione integralmente ecologista. Oggi, voi siete stati un pioniere, che siete stati con l'oledana dei pionieri. Ma oggi, attenzione, la prospettiva è completamente cambiata. All'inizio si trattava di combattere contro l'ecomosto, di pazzi per delle aree più pulite, per creare degli spazi più verdi. Oggi noi siamo chiamati a una sfida che, guardate, è anche complessa dal punto di vista delle conoscenze scientifiche, tecniche. Noi dobbiamo ripensare il modo di produzione. I modelli di produzione sono stati costruiti con logiche che oggi ne dobbiamo superare. Qual era la logica? La diciamo in breve. La logica capitalistica qual è? I consumatori vogliono un certo bene, un certo prodotto, c'è il margine di guadagno? Allora, subito si crea una filiera di produzione per erogare quei beni e quei servizi. anche il lavaggio del cervello. E anzi, con le tecniche più sofisticate si cerca di creare un bisogno indotto, con la pubblicità eccetera, per cui addirittura i consumatori vengono dietro i prodotti forniti, piuttosto che i prodotti in cui realmente hanno bisogno. Oggi tutto questo non funziona più, perché questa logica ci ha portato a creare un sacco di rifiuti senza nessuna prospettiva di recupero, senza nessuna prospettiva di un'economia circolare. Oggi l'economia e il ciclo produttivo deve pensare già nel momento in cui progetta la cosiddetta fase produttiva a quella che sarà la fase del recupero, del ricircolo. Un ciclo integrato. Noi dobbiamo pensare completamente a tutte le filiere produttive. E occorrono delle condizioni tecniche e scientifiche che dobbiamo ancora amalgamare, mescolare e organizzare in un pensiero sistematico. Allora occorre una visione percentuale molto più in là di quella che sarà quella tradizionale. ovviamente supportata da una sensibilità costante di fronte. E guardate, io dico questa sensibilità poi deve spalmarsi su tutti i temi. Per esempio, non possiamo non abbracciare anche la prospettiva che tanto ci preoccupa da un anno, da 11 mesi a questa parte, di un conflitto come quello russo-ucraino. Noi non abbiamo nessuna incertezza. Non siamo equidistanti. Noi non lo siamo noi stati. Non siamo neutrali. Perché non possiamo essere neutrali di fronte a un aggressore e a un credito. Ma siamo ben consapevoli che la strategia militare che ci stanno offrendo, che l'intero fronte occidentale che sta percorrendo, non ci offre una via d'uscita che non sia quella di un'escalation militare, il rischio di una deflagrazione nucleare e quindi la concreta della certezza dell'aumento delle vittime, soprattutto civili e dell'incremento della distruzione di intere città, interi territori che noi dovremmo ricostruire, che noi andremo a dover ricostruire. Allora, questa sensibilità noi la dobbiamo avere a 360 gradi. Se vuoi tutelare il tuo ambiente, preservare la biodiversità, se vuoi assicurare la prospettiva di uno sviluppo realmente sostenibile, non puoi che contrastare questa prospettiva di escalation militare, che significa lasciare l'Ucraina abbandonata a se stessa, la popolazione ucraina, noi siamo vicini a loro, ma se davvero, e questo è il punto cruciale che non ci viene spiegato, se davvero li siamo vicini a loro, allora noi non possiamo pensare che questo incremento della produzione militare sia la soluzione per loro. Dobbiamo capire, non dobbiamo prenderci in giro. Questa è una prospettiva che va a ingrassare con parti produttivi militari dell'Occidente, senz'altro. Però, se vogliamo essere davanti e vicini veramente a loro, dobbiamo porci il problema di una svolta diplomatica, di un percorso negoziare, perché la storia è già scritta, l'abbiamo già vissuta. Rischiamo di arrivare a un punto in cui l'Occidente, dove ci sono le democrazie, non gli stati autoritari, dove ci sono le pubbliche opinioni che contano, dove ci sono i sondaggi che ci dicono che le persone iniziano tutte quante per la maggioranza politica, a interrogarsi se vale la pena tutte queste sofferenze economiche, sociali, tutte queste conseguenze negative per continuare a alimentare la guerra. Ecco, allora noi oggi dobbiamo intercettare questa sensibilità e costruire un percorso negoziale per evitare di arrivare un domani al limite massimo di sforzo, dove poi i governi non supportati delle opinioni pubbliche fanno come hanno fatto in Afghanistan. L'hanno via dall'oggi al domani. Adesso ci sono i talebani, peggio di prima. Abbiamo tradito le aspettative di tante giovani generazioni, tante ragazze, torni ragazzi, che pensate nel periodo in cui avevamo lì negli occidentali c'è stato un tasso di scolarizzazione che loro non conoscevano. Quelle ragazze e quelle ragazze che vanno più a scuola. Tutte quelle aspettative sono state tradite e adesso l'Occidente è come se non avesse più nessun interesse per quello che succede in Afghanistan. Questo non ce lo possiamo permettere per la stessa popolazione popolare. Questo deve fare la politica, deve prevenire quello che succede domani o dopodomani. Allora, io dico una cosa, sono veramente contento di aver trovato in Donatella Bianchi. Io di verità non ci speravo di trovare un interprete così ideale, così concreta per questo progetto per la nostra regione, per questa comunità naziale. Donatella Bianchi interpreta tutte queste sensibilità che vi ho detto. Perché è una vita che ha dedicato al WWF, si è dedicata, ha lavorato anche, qualcuno lo ricorderà, la task force in Colau, quando in piena pandemia abbiamo iniziato subito a cercare di tramutare in opportunità le avversità pandemiche. Le ha lavorato come una qualificata esperta in quella task force e le abbia iniziato a porre, a definire l'originario piano che poi ha portato al piano nazionale di ripresa e resilienza. Vincendo la sfida è stata ricordata ad Alfonso Pecoraro Scano quando in Europa sembrava impossibile da conseguire quella sfida. Ma perché l'abbiamo vinta? Perché siamo stati uniti, siamo stati, siamo sentiti parte di un medesimo destino, di un'intera comunità che si è raccolta con le loro forze energie e c'è stato il coraggio dagli interpreti di governo di vincere a affrontare una sfida che tutti dicevano non provarci neppure. Abbiamo dimostrato che quando hai un sogno e questo sogno riesci a farlo e ha contorni così nitidi, quando questo sogno è un progetto così chiaro e concreto e ce l'hai così vivo davanti agli occhi lo puoi conseguire a dispetto di tutte le autorità. Oggi in questo momento in Italia non c'è un sogno del genere. E poi, attenzione, stiamo scendendo giù, stiamo scendendo giù, ritornando al conflitto ucraino-russo, l'Unione Europea è sparita d'Irana. Io ho detto l'altro giorno che ho fatto la Fonda Rai, la Presidente della Commissione Europea, le ho comunicato, le ho comunicato a nome di centomila persone, forse molti di voi che sono scesi in piazza quel sabato qui a Roma, ho detto guarda noi siamo preoccupati, l'Unione Europea sta ormai sullo sfonto, è chiaro che non c'è una strategia politica, c'è soltanto una strategia minare, decisa altrove, noi la stiamo seguendo subidamente, pedisticamente e soprattutto, attenzione, non ci stiamo neppure concentrando su quelle che sono le nostre priorità. Perché col caro bollette, caro energia, caro carburante, con l'alta inflazione dei prezzi al consumo, noi non riusciamo a livello europeo a costruire un piano di reazione, mettendo a fattore comune ovviamente le nostre risorse, così come è stato durante la pandemia. Gli Stati Uniti sicuramente stanno facendo grandi investimenti, ma quando si parla di investimenti militari, sono soprattutto le industrie statunitensi che recitano la parte delle ore. Gli Stati Uniti, di fronte a una prospettiva recessiva come quella attuale, hanno istituito un fondo di 360 miliardi di dollari per sostenere le loro imprese. Si chiama la legge per ridurre l'inflazione, Inflation Reduction Act. La CIA sta facendo altrettanto. In Europa abbiamo qualche spicciolo, non c'è la volontà politica di creare un piano per reagire a questa fase, a questa congiuntura negativa, per cercare di far avanzare la transizione ecologica, per cercare di accompagnare quello che in questo momento ci serve come il pane. C'è un massiccio investimento in tutte le fonti rinnovabili. Anzi, la reazione immediata qual è stata di fronte alle difficoltà della guerra? Noi dobbiamo ritornare al carbone, ritorniamo all'intervento e purtroppo abbiamo un governo che ha sposato completamente prima Draghi e poi in piena continuità Meloni senza nessuna distinzione. Non c'è distinzione. Questa legge di bilancio è stata approvata da poco, la predisposta Draghi e in piena continuità la completata Meloni. Siamo nel segno dell'austerità del passato. Non c'è più nessun sforzo di perseguire politiche consapevolmente e accortamente spessi. Il risultato, sapete qual è? Ne parlavo con il commissario europeo Nicola Smith del lavoro. Il risultato è che in Italia abbiamo oltre 4 milioni di persone che hanno sottopagate con poste paga da fame. Oltre 4 milioni. Oggi, poco fa, è uscita la notizia che in Spagna hanno incrementato e innalzato la soglia del salario minimo. Ce l'hanno innalzata. In Germania Ide e in Francia noi non ce l'abbiamo una soglia di un salario minimo. Poi viviamo dei momenti di dissociazione. In Europa in questo momento c'è una raccomandazione per adottare tutti i paesi europei, che vogliono tradurre in direttiva vincolante, per cui ci deve essere in tutti i paesi europei un reddito minimo garantito. Il reddito di cittadinanza. Oh, guardate, noi abbiamo la ministra Candelone che è andato a dire la dotata per l'Italia. È una dissociazione. È una bipolarità politica. Di cui dovrebbero rendere conto. Ma come fai quando ti siedi a livello europeo a far finta di condividere questo obiettivo e quando hai fatto una legge di bilancio con cui hai decretato che fra sette mesi lo toglierai agli occupabili il reddito di cittadinanza dal primo gennaio 2004 lo toglie a tutti e lo smantegli. E ancora, scusate, noi abbiamo un problema di precariato, precariato diffuso. Ormai questi ragazzi sono uno devoli e veramente hanno un grande merito i nostri occhi perché non solo rimangono in Italia ma si impegnano per migliorare la loro comunità. Ma ce ne sono tanti che stanno andando via. Stanno andando via perché non gli offriamo più la prospettiva. incontro tutti i giovani che incontro lavorano all'estero con paghe doppie e triple rispetto a quelle che prendono qui. Ma soprattutto hanno dei contratti a tempo indeterminato. Qui si lavora, non ormai, col contratto a tempo determinato e questo governo vuole adesso far saltare anche quelle limitazioni che avevamo introdotto nel decreto dignità. Sono questi i problemi che non abbiamo. Ecco perché è importante che queste nostre sensibilità vengano affermate dai governi territoriali. Qui, in questa regione, si gioca una partita importante e dobbiamo essere consapevoli. Ogni voto è importante. Ogni voto è importante perché la nostra affermazione sarà l'affermazione di un'agenda sociale e di un'agenda ambientale, ecologica, alla vanguardia. Sentiremo la frontiera e chi si misura il tuo progresso che iniziano a capire deve convenire su questi obiettivi perché noi saremo sempre più intransigenti. Io l'ho detto a chi verrà con noi. È la ragione per cui, avete visto che tutti qui non ci siamo. Non ci siamo perché noi non possiamo prenderli in giro. Gli obiettivi che abbiamo sono troppo ambiziosi. Richiedono radicalità di atteggiamento. Non puoi fare i compromessi. Non sei credibile se fai, se parli di una prospettiva ambientale come fa il PD e poi vuoi realizzare un mega inceneritore da 600 mila tonnellate. Non sei credibile se stai a casa. È inutile che la vecchia politica se la prenda con me, con il Movimento 5 Stelle e venga dietro il Movimento 5 Stelle e vuol far male al PD o vuol far vincere la destra. È il PD che deliberatamente ha deciso di far vincere la destra. Allora, se noi ci partiremmo più la prima. Allora, noi faremo di tutti per impedirlo. Per impedirlo. Noi i giochi della vecchia politica non li accettiamo, non li abbiamo mai accettati e non siamo qui per realizzare questa missione in politica per consentire questa doppiezza di azione politica. Quando mi viene detto, ma quello è un discorso del commissario di Roma, però alla regione non c'entra nulla, io dico, ma mettetevi d'accordo, perché questa è la bipolarità del governo in carica. Voi state accettando la bipolarità del governo in carica. Dove? Prima dicevano no trivetazioni e la prima cosa hanno fatto sì trivetazioni. Dove prima dicevano no, no MES e adesso vedrete, aspettano che votiamo prima in Lombardia e in Lazio, vedrete che porteranno il MES e lo ratificheranno l'Eurofuglia di cui parlavano. Dove fanno un giorno avanti e un giorno dietro, si può, non può. E su tutto si stanno rimangiando tutte le promesse, le ultime attiviste sulle accise. Hanno fatto i video, hanno detto che era un furto, un ladocino di Stato, hanno scimmiottato dei teatrini, facendo vedere la bonta di pensia che c'era il fisco che rubava e il fisco sono loro. Che bello avere la possibilità di lavorare con te e con gli amici qui presenti. Adesso no, dieci giorni. Questi dieci giorni saranno essenziali. Ciascuno di voi dovrebbe essere riconverto in questa partita. Dobbiamo vincere tanto il più persone possibile. Dobbiamo affermare questo nostro progetto e dobbiamo dare consenso intorno a questo progetto. E vedrete che chiunque io verrà eletto nella lista del Movimento 5 Stelle o in questa lista supercolonata si impegnerà sino alla fine per tenere fede agli impegni che stiamo annunciando in questa campagna elettorale. Perché per noi la politica è una missione. E' una missione, posso dirlo, senza fare moralista. E' una missione anche etica. Etica significa che lavoriamo con rigore nel segno di quell'onore disciplina di quell'articolo 54 della nostra Costituzione. Grazie. Grazie, grazie. Io voglio ringraziare tutti voi, voglio ringraziare tutti voi.